Crutch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Oggi vi porto a Montebelluna City. Allora, vi porto a visitare la Gilbert. Se siete appassionati di rugby, avete sicuramente giocato mille mille volte con dei palloni della Gilbert, avete indossato del materiale della Gilbert. E oggi ho approfittato di essere qui in Italia per andare a trovare Francesco della Gilbert, con cui abbiamo appena organizzato il torneo bellissimo di sabato scorso, la Gilbert Touch Rugby Cup. E l'ho detto, ma perché no? Vado a fare una visita negli uffici e vediamo perché potrebbe esserci qualche sorpresina. Andiamo a vedere. Francesco! Ciao Danilo, tutto bene? Tutto bene, da quanto tempo? Da due giorni? Da due giorni. Sei ripreso? Mi sono ripreso fisicamente anche un po' di loro. Mi fanno un po' le gambe, le sento anche oggi, però dai, il progetto è più fresco adesso, sono più di 40 gradi. Ma la tua squadra come è arrivata? Sai che non mi ricordo neanche io. Ah, ok. Non credo ultima. Vuol dire che non abbiamo barato. Questa è casa tua, Francesco. Esatto, è benvenuto. Grazie. Questa è l'entrata nella nostra sede qui è molto belluna, che è la sede italiana di Gilbert. E qui abbiamo un magazzino, un uffici, un showroom. Questo è un po' molto tutto. Bellissimo. Ascolta, ma io ho appena entrato ho visto quella cosa lì, che è stupenda. Un biglietto del 59 di Inghilterra Italia. Non so se vedi anche il prezzo, una sterlina, che per i tempi era anche un prezzo abbastanza alto. Però questo è un biglietto originale che abbiamo stampato e io ho detto... Seconda fila, posto 15. Clickenham, clickenham una volta. Tu c'eri, no? E tu, il 59, io troppo non c'ero. E anche tu? Non ero nemmeno nei pensieri, diciamo sono vecchio ma non così tanto. Vieni pure. Andiamo? Abbiamo già preparato un regalino, quella scatola è tua. Questa è mia? Esatto. Wow! Che bello. Bello, bello, bello. Adesso l'apriamo. Se qui vuoi vedere cosa c'è dentro. Sì, adesso l'apriamo. Raga, primo unboxing vero e proprio del canale Dampatragby, come gli youtuber, quelli fighi, quelli bravi. Non so se sono tre quelli. Insieme a Sergio. Perché Sergio? Perché sto manichino qua dei Barbarians, ovvio perché non lo convocano nella nazionale italiana. Riniziamo la polemica? No. Sto manichino qua dei Barbarians è stato fatto, mi ha raccontato Francesco, sul calco di Sergio Paris. Fantastico, bellissimo. Ciao Sergio, come sei? Tutto bene? Bene a te o non è? Ancora triste? No, dai. Dai, bello Sergio. Dai, andiamo. Allora, unboxing, unboxing. Partiamo, via. Aspetta che devo tirare via lo scotch. Strappone, giù. Via, vediamo che cosa mi hanno lasciato qui. Ragazzi, sono emozionale. Su se. Allora, prima di fare l'unboxing ricordiamo una roba. Come già sapete, come già sapete, perché ne abbiamo parlato un paio di video fa, ma se non lo sapete ve lo ricordo, avete il 10% su tutto il materiale che trovate su The Rugby Catalog. Codice sconto, quindi non solo quello che tirerò fuori dalla scatola, ma tutto, tutto quello che trovate nel sito The Rugby Catalog. E adesso vediamo che cosa mi porto a casa io. Così iniziamo. Mi sembra Natale. Mi sembra di essere a Natale. Era da tanto che no. Cappellino con la felce. Stupendo, bellissimo. Lo subito in testa, via. Andiamo avanti. Adesso non è che mi metterò tutto, perché però il cappellino ci sta, secondo me. Magliettina tattica Benetton Rugby. Questa mi sa che la vedrete più e più di una volta nelle mie live. Forza Leoni. Grande, bellissimo. Bellissimo. Blu. Per chi non lo sapesse, il secondo colore è il previso. Astuccio. Ficata, bello veramente. Astuccio Benetton Rugby. Bellissimo. Torno a scuola. Astuccio Benetton Rugby. Bellissimo. Qui ci metto dentro tutte le cosine sul mio setup. Poi. Palloni. Palloni. E come non potrebbe essere altrimenti alla Gilbert. Apriamo. Apriamo. Beh, lo sto pallone. Ma è fighissimo sto pallone. È veramente figo, eh? E non lo dico per la collab, ma lo dico perché è proprio figo, figo, figo. Vieni, vieni. Pallone con tutti i loghi delle squadre del mondiale. Aspetta, ma questo è il pallone del mondiale, eh? Pallone del mondiale. È il pallone del mondiale. È il pallone del mondiale. Figata, incredibile. Pallone ufficiale del mondiale. Che immagino trovate o troverete a breve sul sito del Rugby Catalog. Con tutti i loghi. Vedete? Ah, bellissimo questo. Rugby World Cup Francia 2023. All Blacks, Francia, FIER. Ci hanno messi tra la Francia e l'Uruguai. Ah, perché vanno a gruppi. Fantastico, figata. Bellissimo. Veramente bellissimo. Bellissimo. Wow. Grazie. Grazie mille. Veramente Natale. Poi, come nei migliori regali, c'è il pacco dentro il pacco. Adesso vediamo se dentro il pacco c'è un altro pacco. Pacco, pacotto e contropaccotto. Aspetta che è proprio top perché è classico. C'è una cosina. Wow, bellissimo. Portachiavino Benetton Rugby. Ne trovate un casino di portachiavi nel sito Rugby Catalog. Però, insomma, io questo adesso diventa il mio ufficiale. Portachiavino Benetton Rugby. E poi, pacco contro pacco contro pacco, apriamo anche questo. Ah, chi chiara voglia. Adesso, io ovviamente sono un devastatore di scatole. Wow, figata. Figata incredibile. Una lampada. È la lampada del Galles di Gatland. Vediamo se sta lampada illuminerà il cammino a sto povero disperato Galles. Comunque è bellissima. Questa si accende, immagino, sì, perché dentro c'è il... Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, sono commosso. Sono commosso. Veramente figo. Grazie Gilbert. Grazie Francesco. Grazie The Rugby Catalog. Tutta questa cosa qui... Queste cose qui verranno come a Barcellona. E voi, invece, avete il 10% di sconto su qualsiasi vostro ordine nel sito The Rugby Catalog. Ragazzi, sono... Voi che seguite il canale dal primo giorno sapete che sono un po' emozionato perché inizia ad essere un riconoscimento, insomma, di tanti, tanti video e tanta fatica e quindi il più grande ringraziamento va a voi. Va a voi che seguite il canale dalla prima ora o quelli che lo seguono da poco. Quindi, grazie Gilbert. Sono veramente emozionato come se fosse Natale. Vi mando un bacio. Al prossimo video. Ciao.